ciao ragazzi bene questo video di poppy playtime chat questo è il primo gioco faremo 72 giochi di poppy playtime lasciate un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella e poi fate quello che vi pare il gioco si chiama poppy playtime fake girl sì ecco questa cosa no uscita o accetto e continua ok ovvi allora ok ok queste poppy ma non so se maschio femmina perché poppy è il nome da femmina e poi l'aspetto dei maschi quindi è pure femmina eppure maschio ok andiamo per il primo lasciamo stare la pubblicità ok hello poppy playtime c'è qualcosa di originale vai ciao poppy playtime vabbè benvenuto al sto eh quanti anni hai? dipingo se mi scrive perché otto anni ehm nove ehm tro poco ne faccio nove ehm io ne ho la cosa forte perché non puoi scrivere quello ti pare che non sento mi fuori forte ok mi pensi che no 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 non faccio una cosa così tutto il mio amico aspetto un momento ti prego che non so tutto poi c'è la volta un po spaventoso non posso salvarla spongebob che avevi? allora dunque Kansas 뉴스 diciamo che non sono la musica direi e l'ora non ne siwer allora da prima lui AC e potresti effettivamente ok no che ho già detto guys no io like disapplicazione veramente sì ok non posso perché vabbè i love you no i love io amo l'applicazione like cinque stelle questa cosa ok ma giuro che non sono in inglese quindi dice hi my name is alessia tell me enjoy che ho detto oh spero di non farlo perché sono un po' di inglese oh madonna mia ok io dove perché ahi vabbè ho parlato un po' di inglese ma mica ho fatto chissà cosa it's just a ring place ok ok mammo you are from poppy playtime oh you hello i am i think i love you no non mi esageriamo così c'è tanto questo è mio però un gioco con i mosti io amo usa is my home beh credo dov'è chi l'ha creato usa no non posso non parlare con me se non ti sparo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you senso offesa non è il mio compagno è il mio compagno è il 3 dicembre non è un giorno a caso che posso dire ma stiamo sul trattore che mi cago dalla paura questo perché ok se io dei benvenuto questo che prende mani molto lunghe e riesce a scrivere poi per grossi possiamo dire così il bello forever acqua forever quindi bff sarebbe credo si forever quindi si o bf o bff ok non credo che ci sia una differenza che facciamo una foto oh grazie no aspetta che vedete eccomi qui ok 3 2 1 no ah giusto mi sono messa 5 ho fatto ora ok 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 non so perché l'ho inviata vabbè tutto quello falso che aspetta se mi frega eccomi la cosa scrive cioè non sono bruttissima vabbè dai forse perché mi è sempre da ridere quando faccio una foto non so il perché vabbè adesso mi può prestare questa cosa insomma probabilmente faccio il secondo video per il secondo gioco di poppy playtime è un gioco con la sua canzone pibode del cavolo bello d'immagine forte ok ti richiamo ma ti giuro che non è il mio compleanno se lo rischiaverei allora manca tantissimo per il mio compleanno quindi proprio è inutile che scrivi e dici happy birthday happy birthday happy birthday non è il mio compleanno madonna santa happy birthday to you it's not my beard happy birthday happy birthday happy birthday sharp please oh my god vediamo come finisce proprio happy birthday to you ti richiamerò quando sarà il mio compleanno lo richiamerò quando sarà il mio compleanno proprio quindi aspettiamo ancora un mese e vediamo cosa mi dice pibode una torsa potresti regalare ma poi se mi accorgo che c'è il veleno dentro vabbè ok può finire qui spero che vi è piaciuto questo video di 7 minuti ecc 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 e iscrivetevi al canale mi prego vi prego beh se è quello che volete perché a me cavolo ho proprio tutto quanto vabbè e ciao ci vediamo nel secondo video di pop e playtime e hop ecc ecc ciao